E passiamo ora a un altro grande argomento che abbiamo toccato più volte questa mattina, che è quello della continuità terapeutica. Professor Giovanni Lapadula, le preferisce parlare dal podio? Prego, si accomodi. Con lei vorrei affrontare questo principio e chiederle se è un principio importante o no per un individuo già in cura con successo con il suo biologico magari da anni. E Franco da Roma aggiunge anche una postilla a questa mia domanda, se secondo lei il principio della continuità terapeutica deve valere anche per chi è in cura con un bio similare. Prego. Bella domanda, prima della relazione. Beh, intanto io volevo scusarmi del fatto che le mie diapositive hanno un formato diverso e vi sarà anche qualche diapositiva in inglese perché purtroppo nella fase di elaborazione delle diapositive sono stato colpito da una influenza che mi ha messo KO e quindi non ho avuto modo di completare l'elaborazione delle slide e di mandarle poi perché fosse cambiato anche il format. La domanda è molto interessante perché sì, è vero, uno dei problemi che si pone adesso, oltre alla idea che vada difesa ad oltranza la continuità terapeutica, perché il lavoro del clinico è quello di fare una messa a punto, proprio come diceva E. Gimironi prima, per tentativi ed errori della problematica del singolo paziente e quindi dopo aver raggiunto faticosamente un certo equilibrio nessun clinico accetterà mai che qualcuno gli venga a proporre delle variazioni se il paziente sta bene, perché dopo aver raggiunto quel risultato sia pure parziale, nessuno vorrà tornare a provare e al rischio di fare nuovi errori nel tentativo di risettare la situazione del paziente. Si pone poi il problema per chi abbia iniziato un farmaco biosimilare perché fra non poco vi saranno diversi farmaci biosimilari per la stessa molecola e quello che garantisce la nostra agenzia, l'EMA, o l'AIFA per quello che riguarda l'Italia, è che il biosimilare è simile all'originator, ma non assicura affatto che i biosimilari siano simili fra di loro. Quindi l'idea che si possa passare tranquillamente saltellando da un farmaco all'altro perché sono tutti biosimilari con un unico originatore è una problematica pericolosissima soprattutto sul piano della possibile reazione immune che è stata appena descritta perché non è affatto detto che tutte le molecole abbiano gli stessi epitopi verso cui il sistema immunitario reagisce. Quindi noi avremmo, se li considerassimo tutti uguali fra di loro, l'idea di fare lo stesso farmaco ma in realtà siamo somministrando numerosi diversi stimoli nei confronti del sistema immunitario che possono creare delle reazioni impreviste sia dal punto di vista di una vera e propria reazione infusionale come capita o è capitato per alcuni farmaci che vengono somministrati per via endovenosa, sia un'inibizione della loro attività se l'anticorpo è un anticorpo inibente e quindi determina la riduzione del farmaco circolante. Quindi il problema va assunto, va affrontato con criterio e io direi che chi ha iniziato da paziente naif, cioè da paziente che non ha mai fatto una molecola prima, chi ha iniziato con il biosimilare debba avere la garanzia della continuità anche per il biosimilare perché non possiamo pensare di fare questo continuo cambio su una base puramente economico commerciale perché è la distruzione della medicina clinica. Mi dispiace doverlo dirlo ma queste tentazioni che hanno i decisori a volte sulla base di spinte giuste che riguardano la sostenibilità non possono essere portate avanti fino alle estreme conseguenze mettendo a rischio la salute del paziente. Il problema che mi è stato chiesto di affrontare è il problema quindi qual è il criterio della scelta? Un clinico può pensare di utilizzare un farmaco biosimilare sostituendolo al brand? Ha delle motivazioni cliniche? Su questo io ho dei problemi, qui mi lancio un attimo sul terreno del professor Spandonaro, ma giusto così come provocazione con una diapositiva vecchissima che quindi non vuole essere commentata, ma è una semplice diapositiva che dimostra come vi sia una crescita percentuale della spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo di ogni nazione. Noi abbiamo una situazione simile, molto simile a quella dell'Inghilterra come popolazione, come tipologia anche almeno una volta di sistema sanitario, vediamo che c'è un incremento progressivo ed è quello che è stato più volte presentato negli anni passati come un problema che riguarda la sostenibilità. Questo viene colto dai medici, i quali però colgono anche un altro problema accanto a quella della reale problematica, cioè della reale necessità di interessarsi al problema economico, ma anche colgono questo incremento della pressione da parte dei media, da parte dei decisori e temono e continuano a temere, visto quello che è accaduto nell'ultimo biennio per esempio, che questo desiderio sia pure legittimo possa finire con l'interferire con la loro libertà prescrittiva e quindi quello che è accaduto per le associazioni, l'AMA è un'associazione americana dei medici, ma è accaduto anche nelle varie associazioni e società scientifiche italiane che i medici chiedono di conservare la libertà prescrittiva perché non si può attribuire a loro responsabilità anche penale il risultato di una terapia se loro non sono liberi di decidere sulla base della complessità del problema del paziente. Quindi il vero problema in realtà prima di passare a questa sezione è che il medico, il clinico si trova in una situazione particolare. Prima mentre ascoltavo parlare il professor Meroni mi era tornato alla mente un vecchio aforisma di Poincaré che è uno scienziato importante della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, che si chiedeva ma può uno scienziato che ha sempre studiato un elefante usando il microscopio riconoscere l'animale quando lo incontra poi in una foresta? Non è possibile. Allora quello che facciamo noi come medici è proprio questo, noi studiamo il dettaglio, studiamo le malattie, ma quando poi ci sediamo nel nostro studio non c'è di fronte a noi una malattia, c'è un paziente, c'è una persona e c'è la complessità della persona. Quindi noi passiamo da una cultura riduzionistica in cui noi definiamo e delimitiamo singoli mattoncini che possono essere utili a definire la malattia, poi ci troviamo di fronte a un problema di estrema complessità dove non possiamo applicare una teoria, ma dobbiamo fare quello che si diceva prima, i trial and error, cioè dobbiamo provare, vedere se la nostra prova funziona oppure no e tornare indietro nel caso questo non abbia funzionato. Ovviamente il principio fondamentale è la cautela e la prudenza, che è la parola che ricorre in tutte le consensus di tutte le società scientifiche. Di fronte ad una novità la posizione del clinico è conservativa nella difesa del paziente, perché con il paziente, permettetemi di usare questa parola che mi viene spontanea, so che non è politicamente corretta, ma mi viene così, ma io l'intendo come sofferente, non come uno che sta, aspetta a lungo ed è paziente nell'aspettare le liste d'attesa. Il sofferente, quindi con la persona che abbiamo di fronte, il clinico, se clinico è, fa un patto di sangue, di sangue, perché solo così ottiene la fiducia del paziente. Quando il paziente sa che chi ha di fronte gli garantisce la migliore cura possibile, lo difenderà da ogni situazione spiacevole e sarà anche capace, nel momento in cui il medico si sentirà inadatto a risolvere il problema, sarà anche capace di dirgli, guarda, per me io sono arrivato al mio limite, rivolgiti ad un altro. Magari ti indico io chi, se vuoi, ma rivolgiti ad un altro. Questo è il patto che ci deve essere con il paziente, con la persona sofferente e questo è il patto che consente anche una buona aderenza terapeutica, l'efficacia terapeutica, perché poi il paziente ti deve dire tutto, ti deve dire anche se non lo prende il farmaco, senza timori di lavati di testa, perché se no nulla funziona. Allora, lì dove c'è un patto di sangue, nel momento in cui chiunque, fosse anche la regina d'Inghilterra, mi propone un farmaco che mi dice simile, io voglio vedere come funziona. Questa è la verità. I clinici hanno assistito attoniti ad una, letteralmente, una battaglia feroce fra sostenitori dei biosimilari e sostenitori dei biooriginator, senza esclusione di colpi, nella quale chi si è interessato al problema ha visto tutta una serie di tentativi, per esempio dei documenti che poi sono stati definiti endoprocedimentali, che è una parola difficile che serve per dire, sì, vabbè, noi l'abbiamo scritto, era, come dice Iannacci, per vedere l'effetto che fa. Tanto è vero che poi sono stati ritirati di fronte alle critiche, perché in questi documenti, sono stati endoprocedimentali, scusate, è difficile anche dirlo, in questi documenti sono comparse una serie di affermazioni difficili da accettare, proprio indigeribili, per esempio che si possa fare una equivalenza terapeutica per area, nel senso che se io ho cinque farmaci che hanno come indicazione la stessa malattia, io posso fare una gara d'appalto unica fra i cinque farmaci diversi. Questo era il senso. E allora qui è evidente che c'è qualcosa che non va se si modificano i pilastri costitutivi della farmacologia per affermare un principio puramente commerciale. E qui è importante che i medici approfondiscano il problema del biosimilare, perché forse i medici neanche sanno tanto che cosa è un biosimilare. Perché io qui ho riportato le definizioni originarie dei biosimilari fatte dall'FDA prima e poi quelle fatte dall'EMA sotto. Che cosa dicono questo? Che un biosimilare è un farmaco che è definito biosimilare. È tautologia pura, ma significa che il concetto di biosimilarità è un termine amministrativo, non identifica una molecola tipica, non è fatto sulle caratteristiche della molecola. È una molecola simile che supera una serie di prove e che viene ufficialmente definita biosimilare. Di fronte a questo è chiaro che compare la cautela dei medici, tenendo conto anche, vado avanti rapidamente, perché vi volevo far vedere uno dei motivi di perplessità che abbiamo più volte sostenuto e che per noi è fondamentale. Le manifestazioni, gli effetti collaterali comparsi con il primo dei farmaci biosimilari che è stato immesso in commercio, l'infliximab, gli effetti collaterali, gli ultimi individuati sono del 2010 con un farmaco immesso in commercio nel 1999. Questo significa che la sorveglianza post marketing è fondamentale perché un clinico possa accettare con tranquillità l'uso di un determinato farmaco perché ha bisogno dell'expertise, dell'esperienza pratica prima di poter dire che garantire al proprio paziente nel famoso patto di sangue ti do un farmaco che al 99% non ti farà male e comunque se accadrà qualcosa io so già quello che può accadere e posso intervenire. Questo è l'elemento base di questo patto che può portare avanti poi una terapia adeguata e questo è quello che chiede il clinico. Chiarezza e soprattutto collaborazione con gli enti regolatori con i quali c'è uno scollamento pressoché totale in questo momento. Benissimo, grazie professor Lapadula per queste sue relazioni sempre molto outspoken come direbbero gli inglesi, cioè senza peli sulla lingua possiamo tradurre, che servono anche queste a fare chiarezza. Ma chiarezza per chiarezza io le vorrei fare una domanda un po' provocatoria. Abbiamo visto quanto sia delicato e importante il ruolo del medico in questa relazione terapeutica col paziente, in questo patto di sangue come l'ha voluto chiamare lei. Ma siamo davvero certi che i medici siano come posso dire proprio in sintonia con le ultime scoperte, con queste ultime notizie che abbiamo sentito, ovviamente notizie scientifiche relative a biosimilari, biologici, cioè che seguano oltre al dibattito pubblico amministrativo come ha voluto chiamarlo lei anche quello scientifico? Quanto ne sanno veramente i medici di tutto quello che stiamo dicendo? Purtroppo i medici in genere, gli specialisti in questo caso particolare, non sono ben a conoscenza delle problematiche, delle caratteristiche anche che differenziano il brand, il prodotto originatore dal biosimilare. Ci sono stati 3 o 4 survey a livello europeo che hanno documentato che molti medici dichiarano di sapere che esistono i biosimilari ma di non saperne molto di più. Soltanto il 15% dei medici legge a letto l'EPAR che sarebbe la documentazione completa riguardo al farmaco che è disponibile pubblicamente sul sito dell'EMA in tutte le lingue europee e per lo più i medici si informano chiedendo ai colleghi e qualche volta in una percentuale che è attorno al 20% dichiarano di informarsi con le riunioni congressuali e quindi in ambiente scientifico. Sostanzialmente l'educazione dei medici è affidata alla buona volontà di ciascuno ed è episodica con spot di informazioni che vengono captate in maniera parziale ma uno studio approfondito sulle caratteristiche, in buona parte si tratta di specialisti, degli specialisti di tutte le branche mediche sono stati intervistati, in tutti gli specialisti di tutte le branche mediche c'è lo stesso problema, nessuno si è informato in maniera sistematica e questo è un grossissimo problema perché la gestione di questi farmaci va fatta con consapevolezza.